Cosa sta succedendo al piccolo Angus? Adesso vi spiego e vi faccio vedere un po' tutto. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi sono qui con il piccolo Angus per filmare un video a proposito di una cosa che volevo fare da tantissimo tempo. Se mi seguite da tempo saprete che Angus è stata la prima reborn in assoluto che io abbia realizzato con il mohair castano. A differenza del mohair biondo ad esempio di Sophie che è stata la mia prima reborn in assoluto con il rooting, quello castano non perdona nel senso che se il rooting non è fatto bene a mio parere risalta ancora di più e questo è appunto il caso di Angus. Io non penso che voi riusciate a percepire granché dal video purtroppo perché insomma la videocamera non cattura esattamente tutti i dettagli però vi assicuro che quello di Angus non è un buon rooting ovviamente perché era il mio secondo e in più il capello così scuro non aiuta cioè è proprio evidente come cosa. Visto che io adoro Angus e mi piace davvero tantissimo ho pensato di sistemargli i capelli quindi di mettergli a posto un po' questo rooting. Vederlo lì così in mezzo alle mie altre reborn che hanno dei capelli decisamente messi meglio infatti mi dispiace sempre un sacco quindi ho deciso di rimediare. Qui ho già preparato tutto l'occorrente, questo è il primo attrezzo che ci serve per tagliare la fascetta del collo e togliere la testa. Ok detta così è un po' macabra come cosa però avete capito. Povero Angus non sarà molto felice per qualche settimana ma secondo me poi sarà molto molto più carino. Ecco qui la fascetta Perfetto Questa cosa fa sempre abbastanza impressione. Allora è tornato il famosissimo cuscinetto che uso praticamente in ogni video sia per i roleplay sia per la creazione delle reborn lo trovo comodissimo per il rooting. Allora devo togliere tutta l'imbottitura e anche il sacchettino di sferette dall'interno della testa di Angus. Io sono sempre basita da quanta imbottitura ci stia all'interno. Beh tantissima. Devo fare attenzione perché ci sono anche gli occhi. Non vorrei danneggiarli. Ok adesso riesco a farvi vedere anche meglio la situazione. Cioè guardate il rooting. Per me è assolutamente inaccettabile un rooting del genere. Soprattutto adesso che riesco a fare il rooting capello per capello. Vedere questo è un colpo al cuore. Cioè si può fare decisamente meglio e spero di riuscire a sistemarglielo. Inoltre non so perché ma il mohair di Angus è rimasto piuttosto stopposo. E non è il tipo di mohair perché poi ho utilizzato il tipo di mohair su altre reborn e devo dire che il risultato era diverso. Quindi secondo me è stata proprio la lavorazione ad averlo alterato. Dunque diciamo che ci sarà un lungo lavoro da fare. Però spero che ne valga la pena perché appunto vorrei vederlo con un rooting decente perlomeno. So che non sarà come farlo da zero. Però ecco secondo me si potrà sistemare alla grande. Cioè guardate qui questo lato non l'ho mai sopportato. E poi qui davanti non so se vedete ma di qui ha più capelli. Mentre invece di qui è più vuoto. E questa simmetria mi dà troppo fastidio. Quindi sì c'è tanto tanto lavoro da fare. Partirò dal retro qui vicino al collo. Ho già preparato il mohair e anche l'ago. Allora questo è lo stesso mohair che ho inserito ad Angus. Quindi non ci saranno problemi di compatibilità diciamo perché appunto è lo stesso. Qui dove ci sono tanti capelli che escono da uno stesso buco cercherò di fare un lavoro di pulizia con la pinzetta. Sì sarà praticamente eterno però ce la faremo. Allora vediamo un po' cosa possiamo fare per il cliente qui. Ad esempio da questo buco escono 8.000 capelli. Quindi alcuni li ho tolti. Praticamente devo togliere non dico tutto. Ma gran parte del lavoro fatto. Il resto è stato fatto male. Poi essendo il mio secondo routing diciamo che non si può assolutamente pretendere. Più che altro è che adesso noto la differenza ecco. Quindi so che potrei fare decisamente meglio di così. Cambio di programma neanche 5 minuti dopo. Mi sono accorta di dover togliere completamente il mohair perché è in pessime condizioni. Quindi anche a mischiarlo con lo stesso tipo di mohair nuovo probabilmente il risultato non sarebbe molto carino. Questo mohair è stato lavorato in maniera scorretta. Quindi sì è meglio togliere e rifare. Visto che devo rifare tutto da capo praticamente utilizzerò quest'altro tipo di mohair. Adesso proseguo pulendo la zona e poi vi aggiorno. Questi sono i rischi del restyling. Non si sa mai che cosa aspettarsi però confido in un buon risultato. Ho avuto un'esperienza molto simile quando ho rifatto i capelli di Matilde. Inizialmente avrei dovuto semplicemente sistemarli ma poi quando ho iniziato a lavorare sulla sua testolina mi sono accorta che dovevo togliere tutto il lavoro precedente. Capita. Sono pronta per iniziare ufficialmente il nuovo routing. Allora inseriamo questo capello in diretta. Guardate un po' il primo di tantissimi. Ok sono passati circa 40 minuti e guardate ho iniziato a inserire i nuovi capelli e il risultato mi piace decisamente di più. Adesso vi faccio vedere che sono inseriti uno per uno. Non so se riusciate a percepirlo comunque questa è la differenza. Vecchio routing, nuovo routing. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me la differenza è abissale. Comunque devo dire che il vinile della testa di Angus è piuttosto duro. Quindi ci sta che alle prime armi io non sia riuscita a fare un routing più carino anche per questa ragione. Rispetto alle altre Reborn a cui mi è capitato di fare il routing questa è in assoluto la più difficile da realizzare. Perché appunto il materiale è proprio duro e anche se cerco di ammorbidirlo comunque si sente che è molto molto consistente. Non gli ho ancora tolto tutti i vecchi capelli. Penso che lo farò un po' alla volta anche se adesso probabilmente inizierò a mappargli la testa così da avere una linea da seguire. Anche perché non so se vedete ma la vecchia rosa cioè questo giro di capelli qui non è praticamente una rosa. Quindi vedremo un po' cosa fare. Ebbene questo è il lavoro di un pomeriggio direi che per oggi basta. Comunque fino ad adesso questi capelli mi piacciono davvero tantissimo. Fa ridere che apparentemente di fronte non è cambiato nulla. Come se non avessi fatto niente. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate della sua trasformazione. Come pensate che sarà una volta finito. Se vi aspettavate questo cambiamento oppure se è stato totalmente inaspettato. In realtà nel video della piscina cioè in cui portavo tra virgolette Angus in piscina. Qualcuno mi aveva commentato a proposito dei capelli. Ma adesso non ricordo precisamente il commento. Comunque penso che qualcuno avesse notato che i suoi capelli non erano il massimo. Del resto dai primi routing come da tutte le prime cose non ci si può aspettare granché. Comunque io sono davvero impaziente di vederlo finito con la sua nuova capigliatura. Nulla quindi io spero tantissimo che questo video cos'è successo ad Angus vi sia piaciuto. Nelle prossime settimane pubblicherò il suo video ripresentazione con il suo nuovo look. Non so quanto ci vorrà. Spero non tantissimo però sapete che ci vuole sempre un po' mettere i capelli. Poi ci sono i tempi di asciugatura e tutto quanto dunque. Sì insomma spero tra non tantissimo di riportarlo sul canale. Ad ogni modo tra un po' lo rivedrete. Magari vi aggiornerò anche su Instagram o nelle stories di YouTube. Quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Se questo video vi è piaciuto per favore lasciate un bel pollice in su per supportare anche il mio canale in generale. Condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao! Da me e dal piccolo Angus smontato e in lavorazione. Ciao! Grazie per la visione!